musica salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale continuiamo con remake di resident evil 2 nel laboratorio sotterraneo dell'umbrella corporation ragazzi avanziamo ma siamo con quattro proiettili del pompa un proiettile della matilda un coltello e basta la vita ci serve assolutamente un'erba qui è chiuso dobbiamo andare per forza dove c'è il sangue sento i rumori ma mi servo un'erba a me però dai andiamo a vedere la stanza relax prima accesso consentito nooo accesso consentito solo al personale autorizzato l'accesso è vietato ai visitatori dobbiamo andare per forza dove ci sono gli zombie che 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 dobbiamo cercare di non spiegare nessun proiettile qua c'è quello che mangia i nostri menu i nostri piatti ah si è quello che mangia cioè appunto giusto l'ha detto ragazzi io ma che no si è svegliato un altro combustibile ah questo vabbè sarà per lanciar fiamme ok ragazzi non stiamo andando male però ci serve assolutamente un'erba lì non si ci può andare perché vedo che c'è una cosa no dai ah se ci va dalla cucina ho capito ok saliamo prima che si sveglia un altro ci serve un'erba dai dove siamo qui sulla cucina ok ok un coltello bene 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 oh finalmente ok qui cosa c'è regolatore non c'è fiamme sarà una specie di potenziamento credo bene bene qui non c'è niente e qua? cosa ci va? non so qualcosa che sicuramente dobbiamo trovare bene dobbiamo tornare all'inizio ecco dove dobbiamo andare dottor Lee il direttore Cartwright la desidera con urgenza nell'area est ah ecco con il livello di accesso 2 c'era del dottor Lee in pratica ma io direi di posare qualcosa si posiamo questo che ci serve solo per le fogne e questa chiave ok intanto ci servono per le fogne e noi non siamo nelle fogne cioè come hanno fatto a costruire tutte queste cose registrazione forse speciali alfa ghost il bersaglio si muove verso l'area ovest vorrà recuperare il virus g e l'agente antivirale qui ghost ricevuto ci vediamo al punto v3 ricevuto qui alfa sono al posto ricevuto occhi aperti per il bersaglio qui alfa vede il bersaglio sta per aprire la passaporte ricevuto attendo il segnale virus g identificato entriamo dottor birkin deve venire con noi si muova il virus g è nell'area ovest bene ok quindi sistema ci riconosce come il dottor Lee qua addirittura a livello di accesso 4 qui dobbiamo andare accesso al ponte questo livello 3 livello 2 scusate se sentite delle voci esterne purtroppo non ho una stanza isolata dai rumori vediamo qui cosa c'è ma che schifo è oh un'erba però non la voglio usare da sola ok ah qui possiamo salvare e niente ragazzi vediamo se troviamo qualche altra erba altrimenti la devo usare così sala presentazioni cosa è questo? cip di livello 3 quello è merda cos'è successo qui? e come lo prendo? devo andare dall'altro lato adesso sono piante carnivore non ho capito anche le piante trasforma questo virus accesso al computer riservato al personale dirigente ok devo recuperare quel bracciale ragazzi oh merda ma che schifo ma che merda è cosa sta succedendo? cosa sta succedendo? cosa sta succedendo? cosa? una zombie vegetale ma che cazzo è? oh ok dobbiamo colpire i punti deboli per ucciderli questi sala di controllo della serra io voglio cercare di trovare qualche altra erba vaporizzazione in corso vaporizzazione in corso contenitore per disperdere varie soluzioni nella serra ma e questo cos'è? ragazzi non so ah ok ragazzi questi codici per questi codici ho fatto una ricerca perché come facevo a indovinarli e ora? mi sa che qua non ce la vediamo bene quella è un'erba rossa perfetto merda laboratorio test medicinali laboratorio test medicinali modalità manuale attivata regolare la soluzione in base alla capacità del contenitore ok ah ho capito ok 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 perfetto contenitore soluzione contenitore soluzione ma chissà cosa serve questo coso ma che è un morto balsamato sintetizzazione erbicida pianta 43 pianta 43 sintetizzazione erbicida posizione un contenitore potere ah beh già l'ho fatto la pianta 43 mostra una crescita stupefacente se dovesse verificarsi un qualche imprevisto potrebbe essere difficile da controllare in caso di incidente sintetizzare l'erbicida seguendo le istruzioni precedenti così da limitare i danni distrugge la pianta distrugge la pianta più grande se combina questo con questo 6 credo dobbiamo andare indietro ragazzi qui non ci finisce bene qui sotto cosa c'è oh oh scendi dove siamo qui? aspetta un attimo voglio vedere cosa c'è lì in fondo ah la mappa ok bene polvere da sparo qui dove siamo? qui dove siamo? stanza server banca corrente ci sono i leakers zombie che si alzano sicuro che cosa cosa c'è lì? è lì? c'è lì? è lì? che cosa c'è lì? ma è con la V rossa quindi cosa ci dobbiamo fare si alzano a 100% questi laboratorio test vasta temperatura e infatti no se vabbè tutti qua sono statevi fermi li no 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 ok così non si alza più nota di qualcuno sono tutti mutati sono diventati delle piante continuano a tornare ancora e ancora bruciamoli tutti bruciamoli finché i loro corpi non diventeranno cenere non c'è altro modo ah quindi ci stanno dicendo di usare il loggia fiamme modulatore di frequenza mi sa che questo ci serve per per le centrali elettriche un attimo che dobbiamo togliere qualcosa questo intanto lo uccidiamo allora scattiamo questa ragazzi un attimo dove ci porta lì ah ok mi direi che possiamo fermarci qui si per caso mai ci vediamo nel prossimo video ok ragazzi direi che possiamo terminare qui questo video e ci vediamo nel prossimo un saluto a tutti ciao